Una pesante revisione aerodinamica caratterizza l'avantreno della Renault R30. Le vecchie paratie verticali sono state sostituite con elementi più sagomati, stretti nella parte alta con un'uova pinna verticale. Eliminato il profilo superiore che nella nuova versione si sviluppa su tutta la lunghezza dell'elemento inferiore e presenta una vistosa curvatura verso il basso. Modificato anche il profilo principale che all'esterno prevede una geometria ad uncino sull'ancoraggio della paratie esterna. Un pacchetto aerodinamico complesso che consente di ottimizzare lo sfruttamento dei flussi per incrementare i valori di carico e direzionalità dell'asse anteriore.